Ma quanti giri sono? Ma perché non andiamo fuori scusa? C'ho la videocamera, che non usi la videocamera? Ah c'ho la videocamera? Quanti giri sono? Eh c'avevo questo Ma perché non va qua? Che cazzo adesso? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Oh Dio Ma l'Ale? E' l'Ale ultimo